Nessuno sta dicendo corretta ad armarvi, attenzione, noi stiamo dicendo c'è un problema, la gente è esasperata perché i governi delle sinistre hanno portato la gente a essere esasperata, perché con gli svuota carceri, per cui chiunque, 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 fatemi parlare, ma quella la facciamo già, quella la facciamo già, ma in un paese in cui passa il principio che qualsiasi delinquente possa essere libero di circolare senza pagare dazio, e la brava persona che si trova nella tragedia di doversi difendere facendo fuoco, offrendo il ladro di turno, abbia la vita rovinata perché deve affrontare un processo penale, è questo il problema.